allora buongiorno buongiorno a tutti buon inizio di settembre e buona domenica allora abbiamo approfittato di questa pausa naturalmente per studiare alcune cose relative alla finanza ve le volevo descrivere brevemente le altre cose invece che sto seguendo a livello parlamentare ve ne parlerò nei prossimi giorni quando riprende l'attività parlamentare queste sono delle cose come sapete mi occupo di finanza a livello di cittadino diciamo informato da parecchi anni e volevo continuare a dialogare con voi su alcune cose particolari dunque vado in ordine più o meno sparso la prima questione è relativamente alla crisi di due grandissime banche tedesche la commerce bank e la deutsche bank la commerce bank in particolare ha problemi molto seri è in rosso diciamo il suo bilancio è negativo da un po' di tempo e ha già usufluito di notevoli aiuti statali ma ciò nonostante continua a essere in crisi era stata acquistata da Allianz e poi è stata venduta proprio perché continuava a permanere in uno stato di rendite negative e non se ne vede in questo momento diciamo la soluzione tanto è vero che sta uscendo dalla classifica delle maggiori banche tedesche ed europee stessa cosa dicasi per Deutsche Bank e sono tutte notizie di cui potete trovare diciamo ampie conferme su internet cercando appunto crisi commerce bank oppure crisi Deutsche Bank e sono tutte notizie diciamo assolutamente convalidate in particolare la Deutsche Bank ha ricevuto diverse multe negli ultimi periodi per truffe e per comportamenti scorretti tra l'altro il principale azionista di Deutsche Bank è una società cinese il 10% di Deutsche Bank è della cinese HNA che quindi è il primo azionista di Deutsche Bank e già da due anni questo l'abbiamo detto in parecchi il Fondo Monetario Internazionale classifica Deutsche Bank come la banca a maggior rischio sistemico mondiale perché ha in pancia 40 mila miliardi di dollari di derivati che sono prodotti naturalmente ad alto rischio e la cui cattiva gestione potrebbe far crollare ancora di più Deutsche Bank non vado troppo nel diciamo nel dettaglio perché appunto potete trovare moltissime altre notizie su internet ma volevo darvi solo diciamo una chiosa finale cioè sul fatto che essere grandi banche non significhi automaticamente gestire i propri affari nella maniera migliore questo lo dissero anche diversi giornali inglesi negli anni passati dopo un corposo dossier di analisi sulle banche da cui scaturì che le grandi banche avevano un indice di efficienza estremamente cattivo estremamente pessimo quindi erano gestite a livello aziendale in maniera decisamente poco 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 seria poco efficace un altro tema di cui volevo parlare è la conferma che la grande finanza può portare grossi malefici anche a livello di cibo pochi minuti fa Di Maio in diretta dalla festa del fatto quotidiano ha detto non dobbiamo stare al diktat delle agenzie di rating non dobbiamo sottostare ai diktat della grande finanza la stessa cosa dicendo Di Battista in diretta in questo momento sempre dalla festa del fatto quotidiano quindi siamo tutti d'accordo che la grande finanza sta comportando grossi malefici uno dei sistemi più utilizzati e assolutamente legittimo e legale anzi no, legale io non direi legittimo ma semplicemente legale è quello dei derivati così come si può scommettere sui futures del petrolio dell'oro e dell'argento si possono scommettere si possono utilizzare i prodotti derivati anche sui prodotti alimentari e questo ha comportato storicamente negli anni passati diverse speculazioni e diverse ipervalutazioni sopravvalutazioni dei costi del cibo e questo lo si continua a fare tuttora su questo vi consiglio la lettura del libro Dobbiamo ridare fiducia ai mercati falso è un libro che trovate già riassunto della mia sezione indispensabili poi vi metto il link ed è un libro che fa capire a chiunque anche a chi non è in possesso della minima competenza finanziaria come lavorano i grandi mercati internazionali che naturalmente si avvalgono di strumenti molto sofisticati di tecnologie molto sofisticate di prodotti molto complicati finanziariamente ma a livello di logica di principio di funzionamento sono estremamente semplici perché cercano naturalmente di fare soldi nella maniera più veloce possibile senza produrre assolutamente nulla che non siano un flusso di bit uno scambio di dati virtuali a livello di computer senza produrre un chiodo una sedia, una scarpa, un'automobile un trattore nulla di nulla ma solo scommettendo appunto su questi prodotti finanziari molto complessi e sul fatto di allungare la propria visione non al brevissimo periodo ma in un periodo decisamente più lungo c'è l'ulteriore notizia quella di 16 banche internazionali non ce n'è neanche una italiana purtroppo 16 banche internazionali che si impegnano nei loro comportamenti a salvaguardare maggiormente il clima anche qui poi vi metto il link all'articolo completo ma la morale è molto semplice le banche, queste 16 banche dicono d'ora in avanti nel considerare un finanziamento non andremo a valutare solo il guadagno che ce ne può tornare da questo finanziamento ma andremo a guardare le conseguenze le conseguenze climatiche di questi finanziamenti ecco vorrei dire a queste banche bene arrivate bene arrivate perché ci avete messo molti anni per scoprire l'acqua calda cioè per scoprire che un vostro finanziamento poteva sì farvi guadagnare del denaro ma poteva peggiorare notevolmente il clima una cosa appunto assolutamente elementare complimenti per esserci arrivati dopo così tanti anni e dopo che la situazione climatica è già gravissima è già gravissima e non è assolutamente detto che riusciamo a farcela cioè riusciamo a invertire la tendenza del surriscaldamento globale è ovvio che ci vuole un grossissimo impegno dalla parte delle banche complimenti a queste ultime 16 banche che si sono dette pronte a impegnarsi vedremo se lo faranno veramente peccato che non ce ne sia neanche una di grande banca italiana mentre informo per l'ennesima volta a tutti voi che mi state ascoltando o che mi ascolterete poi registrati che in Italia e in Europa c'è già la finanza etica che ragiona esattamente in questa maniera cioè prima di guardare il guadagno guarda le conseguenze sociali e ambientali che un determinato prestito investimento potrebbe causare quindi questa scoperta dell'acqua calda di queste banche che dicono staremo attente a che cosa il nostro denaro come il nostro denaro viene utilizzato ecco sappiate che le 30 banche etiche europee appunto del circuito della finanza etica già lavorano esattamente in questa maniera e come ho detto più volte guadagnano addirittura di più cioè la finanza etica guadagna di più proporzionalmente rispetto alla finanza tradizionale perché sceglie progetti di investimento e società che appunto salvaguardando i lavoratori e l'ambiente hanno degli orizzonti futuri di stabilità e di guadagno decisamente migliori rispetto a chi lavora in settori ambientalmente molto più devastanti che quindi sono anche diciamo altalenanti dal punto di vista delle rendite altra notizia che vi volevo dare è quella relativa alla Francia alla Francia che nei confronti dell'Italia da tempo ha una strategia di acquisizione dei gruppi bancari ne ha già acquisiti parecchi e sembra potrebbe continuare proprio con una fusione tra una loro grande banca e unicredit anche questa è una notizia che potete tranquillamente verificare su internet perché da diversi mesi tutti i mass media ne parlano ecco la Francia ha questo atteggiamento molto aggressivo e naturalmente la cosa sarebbe vi è più deleteria quindi sarebbe un ulteriore peggioramento delle situazioni di oligopolio quindi sempre meno banche e sempre più grosse e quindi anche in questo caso la riflessione che vi esorto a compiere è quella se secondo voi un sistema bancario è tanto più efficiente ed efficace quanto più è oligopolista quindi pochissimi operatori enormi quanto invece lo sia il contrario o comunque un sistema misto in cui ci siano sì grandi banche ma anche piccole banche locali che conoscono bene il territorio la clientela le aziende locali soprattutto in Italia quando sappiamo che il 95% delle aziende e delle imprese sono micro, piccole e medie imprese quindi il nostro tessuto si fonda appunto sulle piccole imprese che hanno bisogno di un sistema bancario snello, fessibile, veloce con un rapporto personale diciamo così con il direttore della banca con la banca che sia in grado di capire effettivamente quella che è la situazione reale di un'azienda in modo da concedere o meno il credito ed era anche per questo che ci eravamo opposti alla riforma delle BCC e delle Popolari perché avrebbe tolto queste banche che storicamente appunto hanno supportato le piccolissime imprese l'artigianato, i professionisti e ancora una volta ricordo che la finanza etica si comporta esattamente in questa maniera quindi privilegiando appunto soggetti che non vanno a deprimere quella che è l'economia locale ma viceversa innestano un circolo virtuoso proprio della stessa economia locale ulteriore notizia che vi avevo preannunciato nei titoli quello che si chiama in gergo più o meno tecnico sempre con una parola inglese anglofona la fintech cioè le tecnologie finanziarie allora l'elettronica e l'informatica ha già rivoluzionato pesantemente la finanza accorciando i tempi di transazione in maniera spaventosa adesso ci vogliono 0,2 millisecondi per fare una transazione finanziaria le transazioni finanziarie sono miliardi e miliardi ogni giorno nei circuiti bancari un'ulteriore rivoluzione che è in atto è quella legata a una serie di tecnologie che stanno entrando nel mondo bancario tutti quanti conoscete i bitcoin quindi questa moneta virtuale basata sulla tecnologia blockchain ecco la tecnologia blockchain che ricordiamolo ho trovato ovviamente moltissimo materiale su internet è un database pubblico che permette una gestione condivisa quindi senza esserci un ente centralizzato che gestisce questi database ma questi database sono diciamo così condivisi tra centinaia, migliaia, decine di migliaia di utenti quindi nessuno ne detiene il potere assoluto ma tutti quanti diciamo tengono in piedi questo sistema che appunto è una rete di condivisione di database ecco questa blockchain anche in ambito finanziario sta permettendo una serie di nuovi sviluppi ve li voglio solo accennare velocemente allora da una parte abbiamo i robo-advisor e questo è una delle diciamo delle ulteriori conseguenze di quella che si chiama quarta rivoluzione industriale quindi i robot che ci ruberanno il lavoro che lo trasformeranno e non saranno solo le catene di montaggio a avere le maggiori conseguenze perché è chiaro che in una catena di montaggio viene spontaneo pensare che ci saranno man mano dei robot che sostituiranno il lavoro manuale ma i robot, i software in questo caso i programmi, i computer andranno a sostituire anche molti lavori intellettuali in questo caso i robo-advisor infatti sono proprio dei software, dei programmi che permettono di gestire finanziariamente il patrimonio di un cliente quindi mentre adesso io cittadino, azienda che ho un patrimonio, ho dei risparmi mi affido a un consulente finanziario in carne ed ossa già adesso e sempre di più un domani queste gestioni finanziarie dei propri risparmi, dei propri investimenti verranno fatti da programmi, da computer ovviamente programmati in questa maniera tra l'altro con programmi tenuti gelosamente segreti perché naturalmente c'è moltissima conoscenza esclusiva su questi programmi gestiranno proprio i patrimoni gestiranno i patrimoni, gli investimenti dei relativi clienti quindi ci saranno tempi duri anche per i consulenti finanziari per gli impiegati bancari l'ho già detto molte volte in Italia uno dei problemi del futuro sarà proprio l'esubero del personale bancario perché in questo momento ci sono circa 300.000 impiegati bancari tenere aperte filiali fisiche costa moltissimo costa moltissimo e quindi si va sempre di più verso l'online banking l'on banking quindi la banca che si trasforma in uno sportello virtuale e compie tutte le operazioni appunto in via informatica scusate che leggo un commento sì, Alessandro Trabuco evidentemente segui da poco i miei video se vai indietro nel tempo nel mio canale YouTube nel mio sito personale Tracce per gli investimenti personali io da tempo consiglio la finanza etica che troverai diversi video coniuga appunto il rendimento quindi il guadagno perché alla fine quando uno ha dei risparmi vuole anche guadagnarci qualche cosa mettendoli via coniuga appunto l'etica con il rendimento finanziario quindi ci sono dei fondi di investimento etici e sono quelli su cui anch'io ho messo via quei quattro soldini che ho che investono quindi solo in società che rispettano altamente ambiente lavoratori il paesaggio in cui sono inseriti e ripeto hanno rendimenti proprio di resa di annuale decisamente molto buoni molti anni migliori rispetto ai rendimenti dei fondi di investimento tradizionali quindi troverai parecchio materiale sul mio blog personale Tracce compreso anche dei video di spiegazione su questo argomento allora dicevo la tecnologia blockchain sta cambiando anche il modo di fare consulenza con tutta una serie di software appunto automatici che gestiranno i patrimoni poi un'altra grande rivoluzione saranno i certificati digitali che vengono appunto fatti con la tecnologia blockchain perché spieghiamolo con un esempio banale i diamanti che tutti conosciamo molto spesso sono oggetto di truffe in cui il truffatore compra un diamante lo assicura e lo assicura con dieci compagnie assicurative diverse perché? perché non c'è un registro pubblico non c'è un registro pubblico dei diamanti in cui sia chiaro che quel diamante è di proprietà di Gianni Girotto quella magari quell'altro è di proprietà di Paolo Rossi eccetera eccetera e quindi poi viene simulato il furto e lui chiede l'indennizzo a dieci compagnie assicurative diverse ora sia per i diamanti che per altri beni in cui non ci sia un registro pubblico come per esempio i beni archeologici i beni artistici i certificati digitali risolveranno questo problema perché a quel punto sarà assolutamente ufficiale pubblico e conoscibile da tutti che il quadro di Picasso che ne so io non sono un artista non sono appassionato il quadro di Picasso l'urlo non so se l'ha fatto lui o meno è di proprietà di quel collezionista sarà chiaro e ufficiale che il vaso romano del 200 a.C. trovato nella villa di Pompei sarà di proprietà di quell'altro proprietario eccetera eccetera quindi avremo tutta una serie di registri pubblici che chiariranno la proprietà di questi beni e quindi faciliteranno innanzitutto eviteranno le truffe e poi faciliteranno anche le compravendite appunto tra questi di questi prodotti altra cosa che sarà facilitata sarà il fenomeno del peer-to-peer lending anche su questo ho già fatto dei video e dei post specifici il peer-to-peer lending è il prestito tra privati è il prestito tra privati è sempre un termine inglese peer-to-peer significa pari a pari e pari e lending naturalmente significa prestare e questo capite che è un scavalcare il sistema finanziario ribadisco prima Di Maio Diba parlavano il sistema finanziario va riformato va migliorato va corretto certo abbiamo persino gli strumenti per scavalcarlo perché io come privato e chi avrà la pazienza di seguirmi fino alla fine glielo farò vedere proprio fisicamente presto soldi ad altri privati io come libro cittadino semplicemente con una carta di credito dal mio salotto dal mio computer dal mio smartphone presto io presto ribadisco presto non regalo non è beneficenza presto soldi ad altri privati che me li ristituiscono poi io personalmente lo faccio su un circuito senza interessi cioè io li presto questi soldi ma non ho non ho interessi quindi presto 10 euro mi tornano indietro 10 euro quindi non lo faccio per specularci non lo faccio per guadagnarci lo faccio perché credo sia il miglior sistema per sviluppare effettivamente un circolo virtuoso economico perché ci sono tutta una serie di soggetti di piccolissime imprese piccolissimi agricoltori privati che potrebbero sviluppare economia ma non lo fanno perché nessuna banca gli presta appunto dei soldi allora dicevo il peer to peer lending è un'altra cosa che la nuova tecnologia blockchain migliorerà ulteriormente esisteva già prima ma adesso verrà migliorato ulteriormente e ribadisco ve lo farò vedere alla fine del video per chi avrà la pazienza di arrivare fino in fondo ultima grossa rivoluzione della tecnologia blockchain a livello non solo finanziario ma anche assicurativo saranno quelli che sempre con termini inglesi perché qua ovviamente tutte le cose nascono con questi termini inglesi si chiamano i smart contract smart contract che vuol dire semplicemente contratti intelligenti contratti furbi contratti agili veloci appunto intelligenti questi sono contratti che come qualsiasi altro contratto ci si trova in un ufficio oppure si si firma via internet in cui sono previste determinati che ne so indennizi per esempio appunto se faccio un incidente in auto oppure se l'aereo ha un ritardo e quindi avendo l'aereo un ritardo superiore che ne so alle due ore ho diritto a un indennizzo ma cosa succede che mentre attualmente al verificarsi dell'evento per cui ho diritto a un indennizzo devo far partire tutta una procedura manualmente devo attivarmi io devo compilare il modulo eccetera eccetera gli smart contract si chiamano così perché nel momento in cui succede quel determinato evento per esempio l'aereo parte in ritardo con un ritardo superiore alle due ore a quello che i contratti prevedono automaticamente immediatamente parte la procedura di indennizzo quindi semplificando in maniera enorme la burocrazia e ovviamente riducendo le possibilità di errore e naturalmente facendo arrivare l'indennizzo molto più velocemente a chi ne aveva diritto questo è solo un esempio di applicazione diciamo che saranno resi molto più veloci tutta la serie di contratti che prevedono che al verificarsi di un evento dannoso ci sia diritto a un indennizzo da parte del del contraente ma non si ferma qui perché diciamo che solo la fantasia è un limite io posso fare tutta una serie di smart contract per esempio se sono un negozio e la mia riserva di penne si sta esaurendo posso prevedere che il mio fornitore immediatamente mi mandi una nuova una nuova cassa un nuovo scatolone pieno di penne in maniera da ripristinare il mio magazzino e questi sono appunto gli smart contract vado avanti sono quasi diciamo alla fine vado con l'avviso di non prestare troppa fiducia negli annunci che si sono visti negli ultimi mesi su noti quotidiani finanziari e non da parte di società che promettono a caratteri cubitali di farti riavere indietro i soldi se hai perso soldi con una banca poi in piccolo scrivono dove è possibile quindi in grande ma ovviamente si sa che uno spesso legge solo i caratteri grandi ti dicono ah ti iniziamo noi se hai perso soldi in titoli se la banca ti ha causato un determinato danno ti rimborsiamo ti promettiamo di farti avere assolutamente rimborso ecco fate molta attenzione io non sto dicendo che per forza di cose dicano non dicano la verità però non è possibile prevedere a priori l'esito di una causa infatti loro stessi ripeto in piccolo scrivono se possibile se possibile su questo vi invito a leggere il libro risparmio tradito di Beppe Scienza che è un noto professore di matematica all'università di Torino il libro lo trovate gratuitamente su internet nel mio caso nel mio sito trovate il riassunto del libro trovate il riassunto del libro e ve lo consiglio assolutamente perché lui ha denunciato moltissime situazioni moltissime situazioni illegali facendo nomi e cognomi e non ha mai beccato non si è mai preso una denuncia non si è mai preso una denuncia perché tutte le spiegazioni erano matematiche per Paola Fronzi e per tutti gli altri Tracce è il nome del mio sito non del mio canale YouTube il mio canale YouTube si chiama Gianni Girotto il mio canale YouTube si chiama Gianni Girotto Tracce è il nome del mio sito del mio sito internet allora dicevo leggetemi questo libro nel mio blog lo trovate già riassunto nel mio blog Tracce c'è una sezione indispensabili ci sono una cinquantina di libri già riassunti e per cause contro banche se pensate di aver ricevuto danni comportamenti legittimi ovviamente ci si può rivolgere agli avvocati naturalmente ci mancherebbe altro quello che voglio ricordare è la presenza delle associazioni di consumatori mi sono speso moltissime volte e continuerò a ripeterlo ci sono in Italia 16 17 sono le principali associazioni di consumatori quindi le trovate un po' diciamo per tutti i gusti diciamo così associazioni di consumatori ce ne sono alcune specializzate sulle banche altre omnicomprensive ugualmente molto 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 valide che vi possono dare grandi grandissimi aiuti nella gestione con le banche con le società di assicurazione con le compagnie telefoniche le compagnie elettriche del gas eccetera eccetera quindi io da 15 anni 20 anni consiglio a tutti ti associarsi ad un'associazione di consumatori perché con i dovuti distingo perché ci saranno quelle migliori quelle meno migliori ma ce ne sono molte che lavorano decisamente molto 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 bene sul discorso di cambiare conto corrente in 12 giorni non mi ripeto perché ho fatto un video due settimane fa tre settimane fa e quindi lo trovate molto 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 facilmente ho trovato anche il post sempre sul mio blog ribadisco solo che la legge impone impone il cambio di conto corrente in 12 giorni gratuitamente poi tutti i dettagli li spiego li spiego su questo video su questo post ribadisco è importantissimo mettere in concorrenza così come mettiamo in concorrenza tutti gli altri prodotti e servizi di cui usufruiamo e di cui abbiamo bisogno tutti i giorni anche le banche le dobbiamo frustare un attimino in senso buono mettendole sotto il gioco della concorrenza non possiamo essere pigri e dire no io non cambio banca perché mi ci vuole troppo tempo perché è troppo complicato tanto sono tutte uguali non è assolutamente vero le banche non sono tutte uguali e ribadisco la legge si possono risparmiare centinaia di euro tra gestione del conto corrente gestione di titoli tantissime altre cose si possono risparmiare centinaia di euro in un anno e scusate se poco poi ovviamente se avete grandi capitali queste centinaia di euro naturalmente diventano molto molto di più però ribadisco dobbiamo essere abituati che le banche si possono cambiare tranquillamente come si cambia come si può cambiare un barbiere si può cambiare il negozio di ortofrutta si può cambiare il supermercato si possono cambiare le compagnie telefoniche le assicurazioni auto dobbiamo farlo per fare in maniera che la concorrenza sia assolutamente reale come vi avevo promesso ricordando che oltre al peer-to-peer lending esiste anche il crowdfunding quindi il fatto di poter prestare soldi a chi ne fa richiesta e c'è una modalità una modalità particolare che si chiama equity crowdfunding su cui ho fatto un video specifico che mi dà l'enorme opportunità come dice Di Maio e Di Battista di migliorare il sistema finanziario diventando noi le banche io lo ribadisco per l'ennesima volta abbiamo la possibilità di migliorare moltissimo il sistema bancario diventando noi le banche scegliendo o i singoli privati da finanziare e questo si chiama peer-to-peer lending e adesso tra pochissimo ve lo faccio vedere oppure finanziando aziende finanziando aziende scegliendo o se è un finanziamento normale quindi semplicemente faccio un prestito che poi mi verrà istituito oppure se divento un mini socio un mini socio di quell'azienda e questo si chiama sempre con questi termini in inglese crowdfunding che vuol dire finanziamento di massa finanziamento di popolo quindi vuol dire che io posso scegliere un'azienda e ho fatto un video descrivendovi una piattaforma internet quindi una società che seleziona per voi i migliori progetti industriali e voi potete scegliere anziché rispondendo anche a quella persona che prima mi chiedeva dove posso investire i soldi puoi scegliere l'azienda che magari ha il progetto più green ambientalmente più sostenibile più bello più utile più efficiente puoi scegliere un'azienda che ha inventato un nuovo tipo di caldaia un nuovo tipo di pannello fotovoltaico un nuovo tipo di pannello solare di pala eolica eccetera eccetera puoi scegliere tu l'azienda che dice io ho questa idea te la descrivo mi servono tot soldi per far partire l'azienda le banche tanto per cambiare non me li danno e quindi li chiedono al pubblico ci sono migliaia di aziende che nel mondo negli ultimi anni sono nate in questa maniera alcune che sono diventate di grandissimo successo e sono nate proprio chiedendo i soldi iniziali al pubblico alla gente normale alle persone normali quindi guardatevi se vi interessa questa materia il mio video sul crowdfunding o cercate in internet crowdfunding è assolutamente troverete moltissimo materiale adesso come promesso vi faccio vedere poi alla fine del video vi metterò anche comunque tutti i link quindi non preoccupatevi ovviamente per chi ancora non l'avesse capito questo video una volta terminato sarà presente sulla mia pagina ufficiale facebook quindi lo potrete condividere lo potrete riguardare potrete fare quello che volete vi metto anche tutti i link che vi sto delle materie di cui man mano ho parlato velocemente link di approfondimento e adesso vi faccio vedere per l'ennesima volta perché lo faccio da tre anni come io e tantissimi altri assolutamente decine di migliaia decine di migliaia di altre persone prestiamo soldi comodamente seduti in casa addirittura con lo smartphone quindi si può fare da qualsiasi posto lo posso fare in mezzo al parco prestiamo soldi ribadisco prestiamo non regaliamo prestiamo soldi a soggetti privati e per far questo quindi cambio la modalità di visualizzazione vediamo se riesco a tenere in mano il tutto e vado su questo sito appunto che si chiama kiva.org vedete il simbolo kiva questo è un sito che è stato creato da 2 25 anni all'epoca 10 anni fa circa io sono 7-8 anni che presto denaro con questo strumento come vedete io finora ho prestato 8000 euro avendo in deposito 2655 euro questo perché li presto li ripresto a più riprese infatti vedete che in questo momento io avanzo dai miei debitori 1600 euro circa e ne ho disponibili quindi in conto corrente ne ho disponibili 674 euro avendo fatto sino a questo momento un totale di 323 micro prestiti e la prima cosa iniziale è questa cioè che sono micro prestiti si prestano 25 dollari al colpo si prestano 25 dollari al colpo quindi potete investire cifre potete investire potete prestare potete fare voi da banca anche se siete diciamo così tra virgolette persone normalissime persone che non hanno particolari capitali ma 25 euro insomma penso che non tutti ma molti di noi ci possiamo permettere di fare un prestito che ribadisco viene tornato viene assolutamente restituito questa questa piattaforma ribadisco eccola qua kiva kiva.org ha una percentuale di restituzione del 99% perché e vi spiego qual è un po' il trucco guardandomi in faccia se no fate fatica a credermi perché si agganciano alle alle ONG alle società alle associazioni di volontariato locali quindi questo è un circuito che lavora in tutto il mondo però i soldi vengono prestati facendo fare l'analisi di diciamo così di solvibilità di garanzia all'ONG locale che quindi garantisce che la persona che si sta presentando che chiede il prestito è una persona seria è una persona onesta e che il progetto che ha in piedi gli farà guadagnare dei soldi ma qual è quindi quali sono quindi le persone che si rivolgono a questo circuito piccolissimi 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 imprenditori piccolissimi imprenditori piccolissimi artigiani agricoltori ma anche persone che non sono imprenditori e che hanno bisogno semplicemente di un prestito per coprarsi un depuratore dell'acqua per coprarsi cure mediche per comprare qualsiasi cosa che gli serve nella loro vita allora io negli anni passati ho fatto la maggior parte dei miei prestiti a persone che volevano comprarsi un filtro per l'acqua un filtro per l'acqua perché ovviamente l'acqua è il bene primario indispensabile nelle zone in cui l'acqua è inquinata ovviamente la gente o si beve l'acqua inquinata o si compra un filtro per depurare l'acqua quindi ho prestato penso un centinaio dei prestiti che ho fatto erano relativi all'acqua adesso non ci sono più persone che chiedono prestiti per l'acqua quindi i prestiti che io sto facendo sono per le cure mediche sono per le cure mediche quindi persone che hanno bisogno di soldi per curarsi o loro o i loro familiari e chiedono e chiedono prestiti in questo senso su questo portale voi potete decidere se sovvenzionare donne uomini gruppi potete fare ricerche per parole chiavi e appunto io la parola chiave che ho usato è health in inglese sanità e quindi ho selezionato tutta una serie di soggetti appunto che chiedono prestiti per curarsi come vedete vengono fuori tutti questi soggetti e voi semplicemente cliccando sul 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 pulsante land 25 dollari quindi presta 25 dollari come vi faccio vedere io in questo momento tac ecco aggiunto al mio basket quindi al mio carrello diciamo così degli investimenti io l'avevo già fatto prima mi ero già preparato prima ho selezionato tutta una serie di prestiti che ho fatto e adesso quindi vado direttamente al mio basket eccolo qua al mio carrello della spesa ho selezionato 18 prestiti ecco vedete mi vengono elencati tutti i soggetti a cui io presterò 25 dollari come vedete tutti quanti sono 25 dollari a tutte queste persone che io naturalmente personalmente non conosco ma mi fido ribadisco ma io sono 8 anni che lo faccio per cui lo faccio senza nessun problema voi ovviamente informatevi meglio leggetevi tutte quante le spiegazioni come ho detto ci si appoggia a gruppi a gruppi di volontariato per prestare noi 25 dollari al corpo che ripeto molti di noi al di là delle chiacchiere da barra se vogliamo veramente cambiare in meglio questo pianeta lo possiamo fare in questo modo tra l'altro ribadisco anzi ripeto per l'ennesima volta non è necessario che facciate diciamo beneficenza a questo a questo sito che si chiama Kiva lo fate solo solo se volete quindi in questo caso io per esempio gli dono 7,5 dollari ma non sono potrei mettere zero potrei mettere zero non sono assolutamente obbligato quindi voi potete semplicemente limitarvi a prestare soldi e a vederli restituiti e per chi mi chiederà ma cosa che cosa viene perso in commissioni zero perché Paypal che è il circuito che gestisce appunto queste transazioni Paypal visto il carattere umanitario di questo strumento ha sottoscritto la rinuncia nero su bianco la rinuncia a qualsiasi cifra di commissione quindi non costa assolutamente nulla ecco quindi come vedete io sto facendo prestiti per 457 dollari e siccome ne avevo ancora nel conto corrente disponibili più di 600 non mi costa assolutamente nulla ne avessi fatti di più li farò dopo finita la diretta adesso non vi faccio perdere un ulteriore tempo ne avessi fatti di più si sarebbe aperto il solito permesso da parte di Paypal di prendere soldi dal mio conto corrente avrei fatto la transizione con Paypal e sarebbe finito assolutamente qua adesso per accorciare i tempi finisco subito quindi clicco su continua la madonna si era chiusa la connessione evidentemente perché avevo preparato questa pagina molto tempo fa signore naturalmente bello della diretta io mi ero già preparato connesso tutto quanto adesso non capisco perché non mi perché mi abbia perso vediamo se funziona così io mi ero già preparato per non farvi perdere tempo e fare tutto velocemente ok facciamo salva che così non me la perde più ecco qua ecco qua appunto i prestiti e adesso completa l'ordine vediamo se riesco a farvi vedere il termine oh signore dio niente essendomi scollegato essendomi scollegato aveva perso tutti tutte le mie tutte le mie descrizioni tutti i miei prestiti allora rifaccio velocemente metto seleziono la parte health quindi sanità e vado a prestare come vedete l'end again l'end again allora perché mi dice che il basket è vuoto andiamo a vedere il basket è vuoto allora no ma l'ha fatta allora perché se qua mi da 216 vuol dire che ha fatto che ha già fatto i prestiti eh sì li ha fatti perché appunto il credito che prima vi avevo fatto vedere che era di 600 euro è sceso a 216 quindi vuol dire che appunto i prestiti per fortuna li ho fatti infatti prima erano 330 erotti adesso sono diventati 341 quindi li ha fatti quindi in buona sostanza vi ho fatto vedere come da casa vostra attraverso questo semplice sito internet semplice da un punto di vista di utilizzo ma naturalmente fantastico dal punto di vista dei risultati quello che eh tutti quanti strombazziamo e cioè che vogliamo delle banche più umane eh più efficienti eh e che non eh discriminano chi è già in situazione di difficoltà lo possiamo fare direttamente noi stessi tramite appunto queste piattaforme di peer to peer lending quindi prestiti da privati a privati io ve l'ho fatto vedere in diretta appunto ribadisco kiva.org adesso vi metterò il link assolutamente vi metterò il link anche di tutte le altre cose di cui ho parlato tra cui anche appunto il crowdfunding per in questo caso investire i propri soldi su società e me le scelgo io appunto le società in cui investire e vi ringrazio dell'attenzione ormai sono quasi le due per cui penso sarete tutti quanti pronti per cenare o avrete già cenato e intanto buona domenica a tutti quanti naturalmente se vi è piaciuto quello che ho detto se lo ritenete utile condividetelo con i vostri amici e parenti ribadisco adesso metterò tutti i link per approfondire l'argomento grazie e buona domenica a tutti